Ragazzi mi duole avvisarvi che io e Awed non siamo più amici Abbiamo litigato, non siamo più amici Questa sera alle 21.20 su Italia 1 alle Iene Scoprirete il perché di questa nostra disputa Comunque, visto che molti di voi me l'hanno chiesto soprattutto in questi ultimi giorni Ci tenevo a dirvi che la risposta è sì L'amicizia con Awed purtroppo è finita E' stata una persona importante nella mia vita Ma abbiamo preso semplicemente due strade diverse Vavano, cosa stiamo facendo Ale? Noi lo sappiamo ma non lo diciamo Non lo diciamo, va bene Raga ma quanto è soddisfacente quando consigli una serie che nessuno ha mai visto a un tuo amico Lui la guardi e gli piace Cioè ti senti come se l'avessi creata tu Cioè l'hai inventata tu quella serie tua Che poi non ha minimamente senso Cioè è semplicemente piaciuta una serie Ad un'altra persona dopo di te Cioè e perché dovresti prenderti me Bella la serie che mi hai consegnato Dici ah sono un genio Non hai fatto un cazzo Tralasciando il fatto del perché Mi sia venuta in mente l'idea di cercare quanti anni avesse Biancaneve Ma che cazzo vuol dire 14 anni raga? Ma in che senso? Io pensavo avesse l'età tipo di mia madre 14 anni ma poi perché è tedesca cosa succede? Cioè perché è proprio tedesca Salve E' contento di vedermi? Molto Allora Roberta vogliamo fare sto cazzo di albero? Una volta per tutto o no? Guarda che robetta Spacca spacca ragazzi Ci siamo Ci siamo Vamonos Ok let's go Qui ci sono tutte le palline più fighe E dietro le palline dell'Eurospin Qui ci sono Allora, in quel cassetto lì c'è una ciabatta Alla quale sono collegati il subwoofer, la soundbar, la play, il VR, la tv, il modem, quella lampada E adesso anche l'albero di Natale, esplodere alla casa C'è un'aria strana stasera